sono chiara moscardelli per gli amici musca e ho da sempre un serio problema di autostima ma ci sto lavorando per questo e per mille altre ragioni da quando vivo a milano vado in analisi e sono ormai più o meno dieci anni con ottimi risultati si fa per dire ebbene la mia ultima seduta ultima per cause di forza maggiore risale ormai a più di un mese fa perché nessuno tanto meno me si sarebbe mai aspettato ciò che sarebbe poi successo ragione per cui l'avevo presa un po sotto gamba come d'altra parte facevo con la maggior parte delle mie sedute non tutti sanno che la mancanza di autostima si porta dietro un'altra conseguenza ancora più seria che è quella della propensione a rimandare rimandi le decisioni importanti e quelle meno importanti al classico momento in cui ti sentirai meglio in cui ti amerai di più e sarai dimagrita ma quel benedetto momento sembra non arrivare mai comunque credi di avere molto tempo per crescere per cambiare per cominciare a prenderti cura di te per uscire a comprarti quel vestito che hai visto in vetrina giorni prima o quel completino intimo che ti farebbe sentire così sexy hai tempo dice e rimandi la crescita i cambiamenti la cura di te stessa lei ha a disposizione una sola vita mi aveva detto lo psicologo durante quella seduta e aveva anche rincarato la dose intendevo dire che lei ha quasi 50 anni e la parte più importante della sua vita l'ha già vissuta male se vuole la verità allora la mia domanda è questa come pensa di vivere l'altra metà e che ne so me lo dica lei vengo qui apposta inverta la rotta ma mica sono un pirata la smetta di posticipare vada in palestra si compre un bel vestito si tinga i capelli questo accadeva un mese fa più o meno lo sottolineo perché è un dato importante il mondo un paio di settimane dopo non sarebbe più stato lo stesso e il tempo che credevamo di avere a disposizione ci sarebbe stato improvvisamente tolto lui stava continuando a parlare io mi ero distratta riprenda contatto con la sua femminilità come la mia femminilità io non ce l'ho una femminilità ma non dica sciocchezze tutte le donne ce l'hanno la sua deve essere ancora scoperta ma lei ha un'idea delle mutande che indosso per fortuna non ho mai avuto questo privilegio mi arrivano qui qui ha chiamato paolo ma chi l'avvocato l'ho conosciuto la settimana scorsa siamo usciti una sola volta lo farò più avanti quando mi sentirò più sicura la smetta di rimandare lo ha fatto per gran parte della sua vita chiami quest'uomo ma per dirgli che cosa senta sono uno psicologo non un centralinista erotico chiara è arrivato il momento di prendere in mano le redini della sua vita ma non saprei da che parte cominciare cominci dalle mutande la faceva facile lui la mia vita andava bene come andava non aveva bisogno di scossoni avevo la mia zona di conforto e temevo che uscirne sarebbe stato deleterio e poi che fretta c'era avevo tutta la vita per comprare completi intimi chiamare paolo che per inciso era pure un cretino credo molto all'opinione secondo la quale nulla capita per caso e proprio mentre stavo facendo quelle considerazioni ero stata attratta dalla vetrina di una boutique era uno di quei negozi di lingerie un po particolari dove un paio di mutande in pizzo alla 50 sfumature costavano quanto l'affitto di un appartamento belle per carità le mutande dico ma una come me non poteva certo permettersele altro che prendersi cura di sé che poi avrei voluto farvi vedere il body che era sul manichino e il manichino ovvio che lo stesso body addosso a me non avrebbe mai potuto avere lo stesso effetto e cosa erano tutti quei lacci laccetti ganci pizzi merletti brillantini incroci occorreva un tutorial per indossarlo per non parlare di uno stranissimo set di palline che giaceva accanto al manichino attratta da quelle incredibili novità ero entrata dando via la giornata più assurda che avessi mai vissuto negli ultimi tempi ma solo perché doveva ancora succedere ciò che di lì a breve sarebbe successo si intende mi ero divertita c'era stato solo un attimo di smarrimento all'inizio quando la commessa mi aveva domandato che cosa mi piacesse vuoto totale che cosa mi piaceva mai saputo stessa sensazione di inadeguatezza approvata vent'anni durante l'esame di estetica il professore mi aveva chiesto essere e tempo di heidegger anche lì vuoto totale ecco cercare di rispondere alla domanda della ragazza mi aveva fatto sentire esattamente come quando all'epoca non avevo saputo parlare della inconoscibilità dell'essere ma mi ero ripresa quasi subito e su suggerimento della commessa avevo provato proprio il body che era in vetrina il più costoso di tutti il più bello il più sexy elasticizzato in pizzo trasparente con incroci di lacci e ganci che terminavano con un collarino chiuso da una catena d'oro lo specchio aveva rimandato l'immagine di una donna ero davvero io quella che mi stava di fronte senza un attimo di esitazione avevo tirato fuori la carta di credito ed era uscita da lì con il body un set di palline per gli esercizi di kegel un apparecchio a telecomando e un vibratore blu queste ulteriori spese non erano previste ma la ragazza a un certo punto mi aveva chiesto ti prendi cura del tuo pavimento pelvico e per evitare lo smarrimento dell'inconoscibilità dell'essere avevo ceduto subito non mi sentivo più la donna di prima e anche se ancora non potevo saperlo il mondo stesso sarebbe cambiato e presto mi sarei ritrovata chiusa in casa da sola con un body di pizzo da 200 euro due vibratori colorati e palline che non avrei mai saputo utilizzare una settimana dopo il folle acquisto mentre ancora mi stavo rammaricando di non essere di non aver sostituito prima le mie mutande ascellari con un body di pizzo un virus sconosciuto aveva invaso la terra e tutti noi eravamo stati invitati a rinchiuderci nelle nostre case e a non uscirne se non in case di estrema necessità no no non è un film di fantascienza il coronavirus era dappertutto e io non avevo chiamato paolo mai come in quei giorni maledissi la mia pigrizza la mia mancanza di autostima le mie paure al cambiamento perché perché aveva rimandato avevo rimandato tutto mi aggiravo come un leone in gabbia nei miei 50 metri quadrati di casa in pigiama solo dopo tre giorni decisi di lavarmi e non lo feci certo per me ma per la mia amica elisa che non riusciva più a sostenere le nostre videochiamate mosca sei indecente che campo a fare me lo domando spesso anche io in effetti non ho combinato niente nella vita non mi sono iscritta in palestra non mi sono messa a dieta non ho chiamato paolo e ho pure speso un sacco di soldi per un body di pizzo che non indosserò mai e perché perché cosa perché dici che non potrei indossarlo chiama questo paolo e divertitevi in che senso ti devo fare un disegnino ma te sei matta ma mi ci vedi combinata in quel modo durante una videochiamata ti prego quando potremo rivederci mosca forse non hai capito ma non credo che usciremo presto da questa situazione quindi che cosa pensi di fare rimandare tutto a dopo il coronavirus sì ottimo così il body non ti starà più perché sarai grassa e vecchia infatti resto in pigiama come ti pare ma almeno lavati e così avevo fatto mi ero lavata è incredibile a dirsi avevo preso l'abitudine di farlo tutte le mattine la cattività mi aveva reso spavalda la mattina mi truccavo cosa che non era mai accaduta in precedenza mi vestivo e affrontavo la giornata a testa alta cioè passavo dal soggiorno alla cucina e viceversa stare sola con me stessa senza impegni senza alcuna possibilità di riempire le ore con attività che fino a quel momento mi avevano allontanata da tutto ciò che riguardava la cura della mia persona mi aveva costretta a riflettere adesso sentivo il bisogno di fare tutto persino indossare quel body e fu così che grazie al coronavirus telefonai a paolo e ritrovai me stessa non avevo un reale interesse nei suoi confronti ma lo avevo nei miei e se attraverso di lui fossi riuscita a riconciliarmi con la mia femminilità andava bene lo stesso e quel body cambiò la percezione che avevo di me per sempre lo indossai una sera non per lui per me e mi sentì bella come non ero mai stata certo metterlo non fu facile come aveva voluto farmi credere la commessa del negozio dopo una serie di contorsioni e ripetuti tentativi di arrotolarmi intorno a quei lacci mi resi conto di avere sbagliato tutto e ricominciai da capo almeno tre volte nella prima sembravo l'arrosto ripieno di mia madre quello con lo spago nella seconda mancò poco che mi strangolassi nella terza tutto filo liscio indossai delle scarpe con il taco che non ricordavo neanche di avere mi truccai e mi preparai alla videochiamata che fu disastrosa non vedevo nulla non sapevo dove posizionare il telefono mi facevano male i glutei per lo sforzo di tenermi in una posizione che permettesse almeno a lui di guardare qualcosa ma lui non riusciva a capire cosa stessi facendo si innervosiva dopo 15 minuti di quello strazio lo mandai a quel paese e chiusi la telefonata distesa sul letto sola scoppiai a ridere e mi feci una promessa se fossi uscita indenne da quella pandemia non avrei mai più rimandato niente anzi già da quella sera per me tutte le sere sarebbero state un body di pizzo ma senza paolo